Ivan Caccio ha 53 anni, sposato padre di due figli, libero professionista e presidente del Parco delle Orobie Bergamasche e l'unico candidato alla poltrona di sindaco nel comune di Ardesio. Lasciatemi dire, è una linea di continuità che però ha un limite di demarcazione per via della composizione della lista. La lista Ardesio per tutti insieme si può, si configura come una lista che ha uno spunto, una partenza che deriva dall'attuale amministrazione ma che si discosta completamente dalla coniugazione di una parte di esperienza portata da tre consiglieri e da sottoscritto ma con una squadra completamente nuova, una squadra composta per la metà tra l'altro dalla rappresentanza femminile e da un'altra metà dalla rappresentanza maschile. Quindi una lista molto composita, direi rinnovata per la sua quasi totalità, per cui questo è il primo punto caratteristico. Il secondo punto caratteristico è che diversamente dai tanti anni in amministrazione per la prima volta si parte da un concetto molto importante, non sono le opere pubbliche il primo nostro punto ma è la famiglia e dalla famiglia discenderanno tutte le politiche di questa nuova amministrazione a patto che il 3-4 ottobre la gente andando a votare, la gente di Ardesio andando a votare ci dia la possibilità con il raggiungimento del quorum di poter amministrare per i prossimi 5 anni. Caccia si avvia a quorum permettendo al suo quarto mandato. La lista si chiama Ardesio per tutti insieme si può. È una civica con affiancato anche il simbolo della Lega equamente caratterizzata da un 50% di quote rosa. Dalla famiglia discenderanno tutte le politiche perché noi puntiamo a un rilancio del paese con la crescita demografica. Quindi dalle borse di studio alle borse per i nuovi nati, dal sostegno alle associazioni sportive o di volontariato che vedono impegnati soprattutto i giovani per cominciare a fare anche un'esperienza di volontariato dalle politiche urbanistiche, dalle scelte delle opere pubbliche che si concentreranno soprattutto sulla manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro immenso patrimonio che possa andare a beneficio però anche di un altro settore importante come quello del turismo e ad esempio sostegno, grande sostegno alla scuola perché crediamo che la scuola con un polo scolastico importante come quello di Ardesio possa offrire tanti servizi per cui anche l'Alta Valle Seriana quindi da Gromo a Val Bondione ne possano beneficiare. Questi saranno i nostri punti salienti perché siamo convinti che la famiglia con la crescita demografica possa davvero dare uno spunto in più alla già attivissima comunità artesiana che è riconosciuta come tra le comunità più attive che ci possono essere in Alta Valle Seriana e in provincia di Bergamo per le tante manifestazioni, le tante iniziative per cui completeremo questo quadro anche con queste politiche familiari.